Via Luigi Monaco, Via Le della Regione, Via Rosso di San Secondo, Via Calabria, Via Catania, Piazza Europa, Via Retusa, Via Salemi, Via Mandelena Calafato, Via Redentore, Via Le Trieste, Via Messina, sono alcune delle strade cittadine che saranno interessate dai lavori di pulizia delle caditoie e tombini. Un annuncio che lo stesso assessore al ramo, Marcello Frangiamone, fa attraverso i social e che conferma i nostri microfoni. Si tratta di un intervento cominciato a inizio settimana, necessario proprio in vista delle piogge autunnali. I lavori sono già partiti, sono iniziati a partire appunto da lunedì e si protrarranno nei giorni a seguire. Sostanzialmente l'azienda che si occuperà appunto della pulizia dei tombini e delle caditoie lavorerà durante la notte al fine di non intralciare il traffico e non creare problematiche appunto alle attività giornaliere. Le aree che sono interessate all'incirca 800 tra caditoie e tombini che sono quelli che appunto l'ufficio ha individuato che sono i più importanti da sistemare proprio per fare in modo che si possano eliminare i rischi di alluvioni o inondazioni che purtroppo ormai con questo clima particolarmente impazzito che determina bombe d'acqua improvvise con concentrazione di quantità d'acqua e in poco tempo ormai mette a dura prova tutte le vie di deflusso delle acque. Pur non di meno appunto i lavori già sono partiti e si avvieranno e si concluderanno nei giorni a seguire con la pulizia di tutti i tombini interessati. Diverse le criticità riscontrate anche dagli stessi cittadini in alcune zone come ad esempio in centro storico. Diciamo che ci sono alcune vie che saranno trattate in modo prioritario perché sono più critiche poi evidentemente saranno anche interessati i tombini che sono presse i tombini soprattutto le caditoie che sono presenti anche in centro storico e anche in altre vie che appunto non sono state diciamo segnalate in questa prima tranche.